Ciao, no, frighi! Sto tornando in Italia, volando! Ciao, sono la vostra Demetra Hampton, sono appena tornata da Isola del Fomoso e questa è la parola piale. Prima, Demetra Hampton Valentina. Ti ricordi le fumette con il caschetto? Sì, sono stata io. Aspetta, adesso ti faccio vedere com'era. Demetra e le sorelle Malevich, carine, ragazze carine. Sono ancora su Isola? Demetra Hampton, paragoduttismo. Sì, faccio anche paragoduttismo. Adesso vi faccio vedere un massaggio. Guarda tutto il mondo sotto il mio corpo! Lifting naturale! Vediamo la prossima! Demetra Hampton è sgarbi. No comment. Non ho bisogno di parlare di una persona che non mi adressa. Demetra Hampton mangia fuoco. Yes! Anche queste ragazzi faccio. Demetra Hampton è... Paolo Filippucci. Sì, assolutamente. Siamo insieme da dieci anni, oltre dieci anni. E siamo innamoratissimi come due bambini di diciotani. Vediamo qua. Demetra Hampton sport estremi. Sì, è vero. Sono nata con le adrenaline e amo le adrenaline. Faccio un sacco di sport estremi. Ecco un altro sport super estremo. Vedi? Partiamo. Attento il traffido. Andiamo avanti. Demetra Hampton ha fili. Eh, purtroppo non ho fili. Però non mancano un sacco di miei metodi che l'hanno. Demetra Hampton, Paolo Vrosio. Mio amico di cuore di oltre vent'anni. Alessia Marcuzzi ha detto che c'è stato un flirt tra di voi. Io con Paolo Vrosio, ma no. Ma sei matti. Ma sei assolutamente, cento per cento no. Vediamo. Demetra Hampton è... Fittin Park. Era un film con Gerica Lalle. Secondo film che ho fatto con Gerica Lalle. È un grandissimo regista, grandissimo artista. Lo voglio bene e spero di fare un altro film con lui un giorno. Demetra Hampton, etta. Basta vai su internet e lo vedi. Demetra Hampton, modella. Prima l'ho iniziato in Giappone. E poi quando sono tornata a New York per le passerelle il mio agente Gian Casablanca mi ha mandato a Parigi. E ti dico, il giorno dopo sono tornata subito a New York quasi piangere. Ecco ragazzi, questa era la mia puntata delle parole chiave. Chiudo. Chiudo. Chiudo.